3 4 6 6 3 3 7 2 5 1 notare che non stava bevendo bravo e basta grazie a me sta male davanti davvero dove era la videocamera bravo bravo state ammirate un fenomeno della chimica non funziona non funziona bene stai cosa? troppo pieno schitta investono quindi ecco come investono i flandesi graffè rimasto in mutande graffè qualcuno mi tolga il suo finlandese mi piacere che ore sono? voglio fare un esperimento di chi? tu portano avanti sempre io voglio vedere come sono abbiamo scolato un'intera spiaggia e oggi abbiamo scoperto che l'acqua è frizzante dai facciamo un altro tentativo oh 19.21 io devo andare allora aspetta che vengo anche io aspetta che vengo anche io mamma li accompagniamo vero? oh è stato un mezzetto su quella moto tutti non ci siamo qualcuno se vuole un passaggio io posso dare un passaggio dai venite che vi accompagniamo dai vengo devi fare il tentativo ma la prima è un esperimento di chimica mamma oggi hai un bel e se la fa fare a piedi e te non è una nonna che non va la piedi capito come vuoi dai fighissimo Ma voglio il cellulare! Ma chi se ne frega! Non ormai è morto! Un secondo! Dov'è il tappo, dov'è? Un secondo! Perché questo viene in retro!